ciao ragazzi come state vedendo questo film io mi sono messo il pigiama da video sono simili ma non pure della Xbox One e c'è un po' di visita non tanto ma quelle lì trovati sono della poil time, destra destra, pollo e time, la sinistra è time e la destra è pollo contro il muro ho attaccato io insieme a mia madre e mio padre delle foglie finente e adesive contro il muro per abbellire la mia camera quel filo lì va su 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 attaccato di questo filo va passa lì dietro va attaccato dietro all'Xbox laggiù e questo filo di qua è dietro alla tv va sempre attaccato all'Xbox, alla tv è del filo dell'academy per così mi posso collegare attivo per giocare e l'ho collegata al wifi di mia nonna che è di là perché lei ha il wifi di mia nonna e mio nonno abbastanza potente con fronte al mio è potente anche il mio ma mi sono collegato qui perché ce l'ho più vicino il mio wifi mi fa più volto in mente con questo video ciao